Io sono Fabio Paschè, sono attualmente il presidente della società di mutuo soccorso di Torre Pellice. La società operaia di mutuo soccorso di Torre Pellice ad oggi solamente più società operaia per motivi burocratici sui quali non mi dilungo, ma insomma abbiamo dovuto tralasciare momentaneamente, chissà che un domani non vi si ritorni il mutuo soccorso, per inserirci nel terzo settore e quindi l'organizzazione di eventi culturali o artistici. Questo non significa che abbiamo accantonato il mutuo soccorso, ma che per questioni puramente pratiche o legali abbiamo dovuto incanalarci in questa strada legislativa. Continueremo comunque, per quanto ci sarà possibile, a portare avanti la volontà dei soci del passato e il senso del mutuo soccorso. Come vi ha anticipato Marco, la storia è molto lunga. A partire dal Novecento abbiamo intanto i primi riferimenti al passato, perché poi potrete capire i documenti spesso sono piuttosto vaghi. Per esempio, risaliamo con buona certezza al 1851 anche dal fatto che venivano stampati di tanto in tanto dei volantini legati ai festeggiamenti della società. E quindi nel 1901 i grandi festeggiamenti per i 50 anni e nel 1951 naturalmente gli altri. E' importante parlare anche un attimo delle sedi, perché la società di mutuo soccorso, società operaria di mutuo soccorso di Torre Pellice, si è mossa solitamente, almeno dai dati che abbiamo, in un raggio in linea retta, potremmo dire di un 200 metri, forse non di più. Cioè dalla prima casa del socio fondatore, fra l'altro, in cui si tenne in via del Forte la prima riunione, poi si è passati per esempio in piazza Cavour, che dista veramente poche decine di metri, dalla sede attuale alla sede di Via Roma, di cui peraltro sono stati recuperati anche i progetti, i progetti, le relazioni di progetto, cosa non scontata per un fabbricato dell'epoca. Quindi c'è stata una progettazione forte, voluta nel 1911 per questo fabbricato, voluta con un acquisto del terreno, della proprietà, con una forza che piano piano, è innegabile, si è andata spegnendo. Ci ha provato prima il fascismo, nel periodo che tutti tristemente conosciamo, devo dire senza riuscirci in maniera così netta, come peraltro il fascismo non è riuscito a spezzare molte tradizioni che erano più antiche dello stesso fascismo, e quindi che sono rinate non soltanto, che hanno continuato a sopravvivere in altri casi. E le società di mutuo soccorso non si sono certamente fatte scalfire in maniera eccessiva, secondo me, questa è la mia visione storica. È andato un po' scemando questo intanto perché, lo diceva già Marco precedentemente, l'arrivo della mutua, detto molto banalmente, ha naturalmente tolto quello scettro, tra virgolette, che si poteva portare con orgoglio, vero, la città di mutuo soccorso. E poi perché con gli anni, insomma, si è andati verso altri meccanismi sociali. Lo stato sociale, che non c'era, come giustamente ricorda la Marco prima, alla nascita, ma che poi ha avuto un'importanza predominante, insomma, è andato di nuovo poi spegnendosi, riaccendendosi, e oggi invece siamo in un meccanismo dove l'aspetto mutualistico, direi anche di fratellanza purtroppo, e questo è l'aspetto forse più grave, e di eguaglianza, anche se apparentemente di facciata viene propinato, e messo sulla bocca di molti, in realtà non sempre viene, di questo viene tenuto conto, e lo scemare del mutualismo secondo me si finisce per essere anche legato a questo aspetto. È un'epoca difficile da questo punto di vista. Allora, la società non è mai morta, ha avuto dei momenti di stanca, come capita anche agli uomini, le società sono fatte di uomini. Momenti di stanca in cui va detto, questo non per diretta esperienza, ma da come mi è stato riferito, si rischiava veramente solo più di tenerla in vita per i momenti di convivialità, per cui un pranzo, una riunione di tanto in tanto. Il tentativo odierno con i nuovi soci, pochi ma buoni, sei, è quello di cercare di riportare appunto intanto il valore culturale anche, e poi per quanto ci sarà possibile, anche il valore di fratellanza, di uguaglianza e di rispetto dell'altro che il mutualismo ha cercato di estendere negli anni. Il senso è un po' questo, cercare di intanto non far morire una realtà storica importante. Nella valle le società di mutuo soccorso hanno, non dico perduto, ma forse hanno meno importanza di quanto non l'abbiano in altre parti d'Italia. Questo non significa che non lo siano state o che la loro storia sia da dimenticare o da accantonare, perché, ripeto, portano in sé dei valori che non potranno mai essere accantonati. Questo è il senso. E poi anche far vivere in senso culturale una sede storica molto bella e tutti quei soci, sono tanti, che vi sono passati e che hanno fatto, anche in periodi più difficili, basti pensare appunto al ventennio fascista, fatto in modo che la società potesse continuare a vivere, a rinascere, da ceneri che non ci sono mai stati in realtà. Hanno cercato di infuoccare, ma non ci sono riusciti. La prima è stata proprio paradossalmente votata all'amico nemico, cioè alla mutua, al medico della mutua, a colui che in qualche modo ha, non dico sostituito, ma in parte si può dire anche così, il senso del mutuo soccorso originario. Gli altri saranno sicuramente eventi di carattere storico, letterario. Abbiamo anche un'importante, grande stanza al piano terreno, nella quale ha vissuto per lunghi anni una cooperativa, ecco, altra cosa importante da dire, una cooperativa già nel 1872, si palesava l'idea di creare una cooperativa sociale. E questa è stata creata, poi ha vissuto, adesso non mi dilungo sulle epoche o sulle date, fino agli anni Ottanta, quindi ha avuto vita lunga, dove naturalmente la gente poteva permettersi, non c'erano i supermercati, non c'erano i grandi magazzini di oggi, di pagare un po' meno un prodotto, vivere un senso profondo di mutualismo, e lì sì, di senso sociale, senza arricchire magari il, non voglio usare male parole, ma insomma chi pensa soltanto all'arricchimento, ma cercando magari di, o perlomeno essendo aiutato, di chi non lo faceva per arricchimento, ma semplicemente proprio per questo senso di mutualismo e di fratellanza. Grazie.